Allora, grazie a tutti e a tutti, benvenuti e benvenute all'incontro di questo pomeriggio. Dal titolo, dalla scrittura alfabetica alla tecnologia digitale, una perdita progressiva di libertà? Punto interrogativo, cioè cominciamo con gli interrogativi, che è sempre meglio mettersi al riparo da qualsiasi affermazione troppo netta quando si parla di questi argomenti. Io sono Christopher Cepernici, sono docente di sociologia dei media all'Università di Torino. Abbiamo in questo incontro che secondo me è davvero molto interessante l'intervento del professor De Kerkove, d'Eric De Kerkove, antropologo ma anche sociologo, anche se non ti sei qualificato prima come sociologo, ma per noi sociologi lo sei, lo sei stato. Lo stesso, esatto, se vuoi ci spiegherai questo. Direttore scientifico di Media 2000, già formato alla Scuola di Toronto con Marshall McLuhan, insomma una figura molto importante, teorico dell'intelligenza connettiva, insomma lo ricordiamo per molti contributi importanti alle nostre discipline sui media e sulla mediologia. Andrea Colamedici, che è qui alla mia sinistra, e invece Maura Gancitano, anche lei alla mia sinistra, filosofi, scrittori, tante cose, tante cose che mettono insieme la popolarizzazione del discorso filosofico, della scienza e della filosofia, fondatori del progetto Tlon, lo pronuncio giustamente, e autore e autrice di un libro molto bello che si chiama L'alba dei nuovi dei, uscito per Mondadori, che è un po' il libro che ispira questo incontro di oggi, forse non lo esaurisce ma certamente lo informa dall'inizio alla fine, e che ci lega e ci dà la possibilità di provare a rispondere alla domanda che il nostro panel in qualche modo ci pone, cioè la domanda, la ripeto, insomma dall'alfabeto alla tecnologia digitale, secondo me questo va spiegato un minimo, perché alfabeto e tecnologia digitale sono due cose molto differenti, l'alfabeto rimanda al linguaggio, la tecnologia digitale è appunto una tecnologia, a me viene in mente che i due termini si potrebbero accostare in modo produttivo dal punto di vista della riflessione, in questo modo, cioè dalle lettere ai numeri, in fondo se parliamo di digitale parliamo anche qui forse sì di un linguaggio ma numerico, parliamo di algoritmi, l'algoritmo che cos'è sostanzialmente? Una formula matematica, una formula matematica scritta da persone per altre persone, magari poi ne parliamo, quindi immaginiamo questo tragitto che oggi ci conduce insomma dalla scrittura alfabetica alla centralità di qualcosa che è numerico, appunto l'algoritmo, quindi immaginiamo il digitale come all'interno di questo perimetro della riflessione e la domanda è, in questo lungo tragitto che ci porta, partendo dal libro che ho citato prima, un po' dalla riflessione sulla Grecia antica, al tempo dell'algoritmo, ecco abbiamo perso delle libertà, abbiamo perso la libertà, è una domanda, ecco questa cosa al singolare a me turba molto, devo dire, perché quando si parla di libertà la prima cosa che mi viene da chiedere è quale libertà, perché io credo che ce ne sia ben più di una e dobbiamo stare molto attenti in questo caso a riflettere su quale tipo di libertà evidentemente potremmo aver perso nell'era dell'algoritmo, ma anche, e qui comincio a far capire i main interlocutori come butta il moderatore, anche quale libertà invece abbiamo acquistato, perché se è vero che si perdono delle libertà è anche vero che se ne possono acquistare di nuove, in fondo ogni era, ogni elemento tecnologico nuovo è insieme, certamente, come dice anche il vostro libro, ma come tutto il pensiero di Marshall McLuhan e quindi di Derek De Kerkhove dopo, insomma, che in qualche modo lo ha portato avanti, ci mostra, la tecnologia cambia il modo con cui noi affrontiamo, costruiamo la società, e quindi quando succede questo ci sono certamente dei rischi, però ci sono anche sempre delle opportunità da cogliere. Allora io qui comincio e chiedo ai main interlocutori, partendo da Derek De Kerkhove, se ci può cominciare a dare una risposta da questo punto di vista, l'evoluzione dall'alfabeto alla tecnologia e alla fine la tua considerazione, ma tutto questo ci preclude delle libertà, ce le preclude tutte, ce ne offre di nuove? La domanda ci mette al cuore del problema per dire, la libertà che perdiamo, parlo a tutti, è l'autodeterminazione. L'autodeterminazione è una fondazione della persona politica occidentale, non lo stato al stesso livello in Cina, in Asia, dove l'uso della tecnologia digitale, la trasformazione digitale è applicata ferocemente con i crediti sociali, che negano completamente l'autodeterminazione, sei determinato da videocamera delle strade, da spia nel tuo telefonino, da valutazione automatizzata delle tue comportamenti, si dicono che non si applica ancora a tutta la popolazione e che non si applica ancora specificamente all'individuo della popolazione, piuttosto alle grandi compagnie e a varie altre cose del piano governamentale. Il problema è, chi ci aspettava? Noi, tutti. È la natura del digitale di prenderci prisioniere, è la natura, non solo, è la natura di svuotare il contenuto della tua mente. Che facciamo? Mettiamo la memoria sul telefonino, aspettiamo dei nostri assistenti digitali di darci opinioni e scelte. Intelligenze, memoria, scelte, pianificazione. Tutto questo esce adesso della nostra testa, dell'interiorità del nostro essere, su qualche schermo e sulla rete. Però abbiamo un sacco di cose molto divertente. La seduzione digitale è fenomenale. Siamo tutti prigionieri del piacere di usare del digitale. E questa seduzione porta immediatamente al libro meraviglioso che stiamo discutendo, veramente meraviglioso, è al cuore della mia ricerca. Si porta questo al farmacone, chi comincia già a parlarne abbastanza fortemente, il farmacone essendo il medicamento che è anche un veleno. E il farmacone è una seduzione anche, è anche una presa di possessione. Questo è essendo la cosa. Allora, perché non voglio parlare solo, voglio semplicemente dire, fare una domanda io ai nostri autori che hanno fatto questa cosa meravigliosa che è di studiare e spiegare da che nasce la filosofia ma tornando al prealfabetico greco andando lì scoprono una cosa con l'aiuto di Julian James che mi ha aiuto anche io a fare il mio lavoro su la neurologia della scrittura e della lettura che evidentemente c'è che la gente, secondo James, non prendeva decisioni come noi, non avevano questa autodeterminazione. Infatti no, erano determinati dalle voci dei Dii. Per questo che il libro si chiama All'alba dei nuovi Dii. Allora la mia domanda per loro è di sapere che l'Ecochamber non è una voce dei Dii? Volete, Maura, vuoi cominciare a rispondere alla questione dove si situa questa Deità? Sì, credo che, intanto grazie moltissimo per aver immaginato questo incontro a partire dal libro perché poi, come dire, il libro è in qualche modo il tentativo di restituire una tesi su cui riflettiamo da molti anni per cui ci sono allusioni già ai nostri libri precedenti e di cui avevamo, abbiamo molta voglia di discutere perché ci sembra appunto che di digitale si parli moltissimo però se ne parla a un livello, come dire, di solito sempre allo stesso modo e sempre in una maniera polarizzata per cui siamo favorevoli o contrari al digitale e parliamo del digitale anziché osservarlo davvero mentre ci stiamo dentro mentre lo abitiamo e ci sembrava urgente anche scrivere questo libro l'ho detto molte volte, quindi la casa editrice lo sa in realtà il sottotitolo che noi avevamo pensato alla fine ma che sembrava un discorso troppo di nicchia era da Platone al metaverso perché avevamo la sensazione e non erano ancora uscite le recenti come dire, non era ancora cambiato il nome di Facebook che il metaverso fosse effettivamente un cambiamento potesse rappresentare un cambiamento colossale quindi ci interessa parlare di questo perché effettivamente è un cambiamento di coscienza quello che sta avvenendo in questi anni e quello che avverrà è un cambiamento di comportamento stiamo iniziando a pensare in modo diverso a organizzare le nostre vite in modo diverso a organizzare i nostri pensieri in modo diverso e quindi quello che abbiamo cercato di raccontare è stato questo tempo della crepa e questa condizione che oggi ci fa sentire nuovi primi esseri umani nella storia dell'umanità a trovarsi di fronte a cambiamenti irreversibili di questo tipo è vero ma in realtà ci fa dimenticare che non è la prima volta che l'umanità si trova di fronte a un cambiamento come questo e allora ci sembrava che la nascita della filosofia e il passaggio dall'oralità alla scrittura rappresentassero un parallelismo molto forte con la condizione in cui ci troviamo e da qui appunto mi avvio verso l'Eco Chamber perché effettivamente noi abbiamo come dire, questo è un saggio in cui abbiamo cercato di parlare di questo e di riflettere su questo ma noi siamo anche molto empirici nelle nostre riflessioni cioè noi abbiamo probabilmente molte persone che sono qui sono qui perché seguono i post che noi facciamo su Facebook su Instagram le riflessioni che facciamo sui social network e in questi anni attraverso i social network e la divulgazione della filosofia e il tentativo di creare dibattito a partire diffondendo il più possibile strumenti filosofici in questo modo abbiamo cercato di capire che cosa fossero e se si potesse creare uno spazio pubblico digitale oppure no abbiamo iniziato a parlare di spazio pubblico digitale quasi anche come un gesto apotropaico cioè forse se iniziamo a dire che esiste, esiste davvero ma effettivamente quello che abbiamo visto sono una serie di dinamiche tossiche di polarizzazioni di limiti anche della discussione che è ancora difficile dire se siano limiti strutturali cioè dell'architettura degli spazi digitali o se derivino dalle nostre difficoltà cioè quanto sono le piattaforme a polarizzarci in questo modo e quanto siamo noi oggi sappiamo in realtà che le piattaforme desiderano grazie ai whistleblower, a tutte le ricerche, le inchieste sappiamo che il tracciamento dei dati e quello che noi vediamo, gli algoritmi hanno lo scopo di tenerci ancorati il più possibile sulle piattaforme e di chiuderci nelle camere dell'eco cioè di spingerci a chiuderci nelle piccole stanze per non sentire il rumore di fondo quindi sappiamo che effettivamente da un lato è così da un lato sono le piattaforme dall'altro deriva molto da noi che non ne siamo consapevoli e che quindi spesso ci comportiamo come è stato previsto che ci saremmo comportati c'è un parallelismo a cui io personalmente tengo molto che è quello tra gli spazi pubblici, fisici e quelli digitali che è un punto centrale del libro magari lo approfondiamo anche dopo ma noi nel nostro spazio fisico nelle nostre città, negli spazi pubblici non incontriamo tutte le persone che abitano quegli spazi che vivono nella nostra stessa città ne incontriamo una selezione in base agli interessi, al ceto sociale a livello di istruzione quindi in base al lavoro che abbiamo agli studi che facciamo ai soldi che abbiamo senza rendercene conto andiamo o non andiamo in certi posti quindi chi frequenta i mezzi pubblici incontrerà probabilmente persone diverse rispetto a chi si muove solo su mezzi privati o su taxi o su auto di altro genere e questo è un grande limite perché in qualche modo interrompe la possibilità di fare davvero un dibattito sociale cioè quello che avviene molto spesso è che gli spazi, il modo in cui si costruiscono gli spazi pubblici e il modo in cui anche scegliamo le nostre case, i nostri spazi privati non è neutro ma dipende da un sacco di fattori culturali sui social network quello che ci è accaduto in questi anni è che invece noi ci siamo ritrovati a stare tutti insieme a parlare, a urlare a volte a diffondere notizie false a insultarci ritrovandoci spesso vicino a persone che non sapevamo a volte che neanche esistessero non sapevamo che esistessero quelle opinioni quelle narrazioni quelle notizie quelle persone portatrici di quell'orizzonte di idee o di valori e questo vivere in un mondo così caotico ci ha spinto appunto a cercare dei luoghi, dei rifugi dei conforti che sono le camere dell'eco sono le bolle di filtraggio fatte di persone che hanno le stesse idee sulle cose queste bolle sono delle bolle come ha scritto in un bel libro Angela Nagel contro la vostra realtà queste bolle sono sempre più estreme perché sono fatte di principi che non sono negoziabili e che sono sempre più netti e quindi queste bolle favoriscono la polarizzazione la polarizzazione la cosa più problematica non è tanto l'esistenza delle bolle perché le camere dell'eco sono in qualche modo a volte anche un rifugio uno spazio sicuro per trovare delle persone con cui discutere delle cose il problema è quando lì viene meno la discussione cioè quando nella tua bolla che può essere basata su dati scientifici o teorie del complotto questo è ininfluente dal punto di vista delle dinamiche il problema è quando nella tua bolla non puoi mettere in dubbio niente non puoi criticare non puoi mostrare un'opinione contrastante non puoi sollevare dei dubbi su qualcosa che deve essere necessariamente accettato perché fa parte delle premesse dell'ingresso in quella bolla quindi le bolle molto spesso si basano sui bias cognitivi sulla fallacia d'autorità per cui l'ha detto quella persona che noi riteriamo autorità in materia non è discutibile quello che ha detto e questo diventa un problema perché questo ci chiude in delle comunità digitali e dovremmo domandarci se quelle comunità digitali sono davvero comunità e ci impedisce di vivere uno spazio davvero sociale cioè un dibattito sociale cioè tra persone che hanno idee diverse quello che noi abbiamo osservato in questi anni è che è molto difficile creare davvero questo dibattito soprattutto per due questioni per l'esistenza delle bolle e per l'esistenza degli influencer come ha dimostrato Sentola ma non solo lui insomma un gruppo di ricercatori è possibile che gli influencer in questo siano dei fattori di filtraggio importanti siano autorità e questo per noi è importante dirlo perché noi stessi siamo influencer nel dibattito pubblico italiano cioè noi stessi abbiamo e ci è capitato abbiamo anche la possibilità di manipolare l'opinione di un gruppo di persone che non sarà tutto ovviamente tutto il popolo italiano ma sarà una parte importante e quindi ci sembrava interessante per questa doppia natura appunto di come dire riflettenti su queste dinamiche e di invece persone che praticano lo spazio digitale riflettere su tutte queste su tutte queste grandissime criticità e secondo me il momento e questi sono gli anni forse possiamo dire gli ultimi anni in cui ne possiamo parlare sono anni decisivi in cui è importante non avere paura di dire appunto di raccontare le proprie difficoltà rispetto alla possibilità di creare un dibattito le proprie difficoltà nello stare nel mondo digitale e anche le criticità anche della posizione di chi può influire sulle posizioni sulle opinioni delle persone perché i social network hanno appunto come si diceva la natura del digitale a farci prigionieri i social network ci contagiano emotivamente in modo molto con un impatto molto più grande di quanto possa accadere in uno spazio reale quello che noi vi diciamo oggi probabilmente potrete criticarlo potete rifletterci molto di più che se questo avvenisse in un consenso digitale formato in un certo modo il contagio emotivo sul digitale è molto più forte quindi per rispondere ma poi appunto le questioni sono veramente tantissime e secondo me è importante che poi ci sia una partecipazione in questa riflessione le camere dell'eco sono in qualche modo le camere dell'eco e appunto poi gli influencer che in qualche modo dirigono spesso le camere dell'eco sono rendono appunto sono in qualche modo le stesse voci degli dei rischiano di esserlo cioè quello che noi rischiamo è proprio di è un po' anche la ragione per cui gli influencer vengono avvertiti come semi dei cioè sono delle creature che in qualche modo hanno un altro rango sono delle persone che hanno una voce con un volume più alto un po' come sta avvenendo adesso quindi noi abbiamo il microfono e voi non ce l'avete ecco questo è un grosso problema e nel digital accade continuamente quindi le camere dell'eco rischiano di essere questo cioè le voci degli dei che impediscono alle persone di farsi la propria opinione di elaborare il proprio pensiero probabilmente sì e questo non significa e non può significare liquidare ed eliminare il digitale poi sulla questione delle libertà magari approfondiamo dopo però appunto quando si inizia a parlarne diventa tutto come dire talmente interessa talmente la nostra vita che le questioni sono davvero tantissime e per noi appunto lo scopo principale è quello poi di far sentire proprio il fatto che tutto questo riguarda la vita quotidiana delle persone e poi ovviamente riguarda anche la possibilità di creare un dibattito democratico certo nel dare la parola ad Andrea che può appunto anche lui darci il suo punto di vista sulla questione e provare a rispondere a quanto diceva Derrick prima faccio una breve nota e rilancio su quello che tu hai detto Maura allora intanto il concetto di ECO Chamber lo dico anche per coinvolgere Derrick non nasce col digitale il concetto di ECO Chamber la prima volta che noi sociologi lo incontriamo è in un libro di Capella e Jameson dei primi anni 90 dove il concetto di ECO Chamber riguarda la coazione all'interno del sistema dei media e dell'informazione di tre attori negli Stati Uniti cioè nel definire un ambiente informativo che è dato da Fox News che è dato da Wall Street Journal e dalle reti radio locali dei repubblicani cioè l'idea nasce questo perché noi lo collochiamo come se fosse per come dire una creatura del digitale la ECO Chamber è teorizzata per le prime volte all'interno del sistema più generale dei media per dire che esiste un ecosistema dei repubblicani negli Stati Uniti d'America come sicuramente ne esiste uno dei democratici come ne esiste uno di sinistra in Italia e come ne esiste uno di destra in Italia allora questo per dire lo richiamo non per esibizione di un libro non per questo ma è per dire che il senso comune a volte non ci aiuta nel senso che ciò che Maura dice ovviamente è vero è corretto ma non è nel digitale che nasce il problema e qui rilancio ad Andrea la palla in realtà noi che siamo io che sono più anziano di tutti voi anche di Derrick immagino di testa e io ricordo che la peggiore delle ECO Chamber possibili per esempio io studio la comunicazione politica non era tecnologica ma erano per esempio le sedi dei partiti politici degli anni 70 e 80 delle terribili ECO Chamber dove quello che veniva sostanzialmente reso difficile è ciò che tu richiamavi prima il dissenso per esempio allora e qui chiudo davvero ti passo la palla Andrea è per dire che il concetto di ECO Chamber è più sociale che tecnologico è così che tu hai iniziato Maura perché forse in effetti le questioni che noi oggi vediamo nel digitale che nel digitale diventano molto più capziose difficili da riconoscere sono le stesse questioni che in realtà non abbiamo risolto dal punto di vista sociale esatto e qui rilancio a te appunto Andrea una piccola cosa su ECO Chamber siamo tutti nella nostra ECO Chamber sì certo non è una novità siamo tutti allora vi dico una cosa meravigliosa di Oliver Wendell Holmes che diceva una volta che una grande idea è entrata un cervello non ritrova mai più le sue proporzioni iniziali è molto bello e questo è questo è il lavoro il lavoro di filosofo è di allargare la nostra ECO Chamber quindi queste ECO Chamber sono sociali o tecnologiche allora mi vengono in mente due aspetti il primo è Edgar Morin filosofo che ormai centenario ha fatto cent'anni quest'anno lui è di luglio se non erro ha compiuto cent'anni era nato nel 1921 e fa una bellissima definizione del processo di conoscenze dice noi abitiamo un oceano di incertezze e lo possiamo fare soltanto attraverso arcipelaghi di certezze il mondo diciamo così non digitale è un oceano dal quale nel corso della storia abbiamo imparato a riconoscere ciò che emergeva abbiamo circoscritto abbiamo generato una cartografia delle terre emerse e quindi abbiamo imparato ad orientarci lì c'è la terra lì non c'è la terra il mondo digitale ancora non sappiamo dove c'è terra e dove c'è l'acqua e quindi spesso affondiamo e tanti camminano sulle acque c'è una storiella dice c'era una volta Socrate Gesù e Mosè che dovevano attraversare un corso d'acqua è una storiella ovviamente non esiste ma che vi sia d'immagine e allora Socrate dice Gesù vai prima tu sì Gesù va e attraversa il corso d'acqua e tutti rimangono abbagliati Socrate ci pensa un attimo studia la situazione e poi pam cammina sull'acqua alla fine va Mosè e Mosè dice beh io sono arrivato prima i loro due sono saggio sono sapiente cammina cammina inizia e va giù Socrate e Gesù si guardano e dicono pensi che dovremmo dirgli dove sono i sassi e questo è il punto cioè molto spesso si naviga il digitale con l'idea che quella superficie lacustre o diciamo d'acqua sia in realtà una superficie solida non è solida è la levigatezza è la levigatezza della superficie dello smartphone ma in realtà ci sono dei punti che sono emersi e dei punti che non sono emersi ci sono delle zone che abbiamo elaborato dal punto di vista sociale e delle zone che non abbiamo elaborato ci sono degli abissi che sono rimasti tali e quali traslandoli in questo in questo grande processo di traduzione e salvataggio l'eco chamber in fondo se pensate che cos'è l'eco è quando tu dici io 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 l'eco per antonomasia del nostro tempo è proprio questo io 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 è un propagarsi di una voce che rimbalza tra le mura e che conferma la propria sintassi la propria visione del mondo beh come funzionavano gli dei secondo Julian Jaynes la sua è una teoria che è stata molto criticata è discutibile ma affascinantissima no in sostanza erano l'attivazione di processi neuronali che attingevano a un substrato di conoscenza collettiva pregressa e quindi quando tu dovevi produrre una risposta che esulava diciamo così dalla pratica comune aspettavi entravi in attesa della risposta del Dio e il Dio si faceva presente attraverso un'allucinazione che poteva essere sonora visiva l'area di Verniche poi è stato scoperto che veniva attivata in quei campi e infatti alcuni esperimenti scientifici l'hanno messo in evidenza ma è tutto ancora da capire tutto ancora da osservare fatto sta che la bella teoria di James è che quando mancava una risposta immediata ci si poneva in attesa della chiamata del Dio della risposta del Dio che dava l'indicazione poi questa mente bicamerale in cui una parte eseguiva e un'altra parte riceveva diciamo così si rompe crolla il crollo della mente bicamerale questo bel libro pubblicato da Adelphi noi abbiamo pubblicato con la nostra casa editrice le conferenze di Julian James che è un autore interessantissimo anche dal punto di vista dello stile con cui scrive con cui racconta beh che succede? succede che poi questa mente per James crolla e gli umani devono far riferimento a se stessi devono produrre da sé le risposte con cui relazionarsi al mondo anche perché c'era stato un'intensificazione degli scambi commerciali cioè il mondo che prima sembrava quello la risposta all'esistenza che prima era quella smette di essere definita una volta per tutte cioè quando un'atenese si ritrovava il sofista che era passato da Corinto o da un'altra città della Grecia che aveva visto altre tradizioni che aveva abitato altre culture era costretto ad avere a che fare con la comprensione che il proprio edificio sapienziale era crollato e che tutto quello che sembrava detto una volta per tutte non lo era più allora lì bisogna inventare qualcosa è lì che nasce più che nasce che si manifesta il potere della scrittura come caposaldo dell'occidente come trasformazione cerebrale come trasformazione della psiche dell'attitudine per meglio dire dell'ethos se vogliamo essere precisi cioè cambia proprio il sedes cambia il modo con cui ci si rapporta con l'abitare lo spazio con la proprietà con con l'ethos antropoidaimon di Eraclito che dice ethos antropoidaimon come carattere il destino ma anche come il modo in cui tu abiti il mondo genera il tuo futuro per certi versi e quindi la camera dell'eco se prima era la voce del Dio che si propagava e quindi trovava un buco quando tu aspettavi spingevi il pulsante e vrom come nei ristoranti che collegano il piano superiore e il piano inferiore ti arrivava la voce del Dio adesso noi spingiamo il pulsante e ci arriva la voce dell'eco che abbiamo scelto del paradigma di riferimento che abbiamo scelto questo come dicevano adesso come dicevate tutti voi è molto pericoloso è molto affascinante perché sta cambiando di nuovo la nostra psiche perché sta succedendo qualcosa con la perdita della scrittura alle nostre vite che è tragico eppure affascinante e adesso abbiamo il dovere di capire come posizionarci per riprenderci la nostra responsabilità perché il fondamento delle libertà è le responsabilità anche qui plurale che si può essere responsabili di molte res per cui dire non si è responsabile una volta sola e quindi per chiudere non voglio prendere altro tempo l'esercizio fondamentale è quello di imparare come diceva prima a dosare i farmaca il farmacon lo sviluppo di una società si può osservare a partire dalla sua capacità di dosare e selezionare i farmaca il farmacon quindi scegliere che cos'è il farmacon è contemporaneamente cura e veleno per la scuola ipocratica di Kos che Platone riprende ne parla nel Fedro Tamus riceve da Thoth Thoth è un dio Tamus è il sovrano il faraone degli egizi e riceve varie arti varie tecnè più che arti che poi è un po' più complesso di arte il termine tecnè lo sappiamo non a caso è il fondamento della parola tecnologia beh riceve tra queste arti anche di grammata cioè la scrittura le lettere per meglio dire e arriva Thoth così piacione diciamo così che si è appena inventato come dire una roba importante e dice guarda ti ho dato una cosa incredibile potentissima fantastica pensa che questa cosa qua servirà per potenziare la tua memoria quello che succede è che in realtà Tamus dice fermati tu inventi io invece giudico tu metti al mondo le tecnè le tecnai io invece sono quello che dice questa roba qua è pericolosa oppure no oggi abbiamo il dovere di non subire dai Thoth Zuckerberg che che siano Gates che siano Jobs che ormai non c'è più ma la prosecuzione di Jobs che siano Elon Musk che vuole bombardare per terraformare Marte o Zuckerberg che vuole generare il il metaverso dobbiamo stare attenti a fare Tamus credo che sia questo il punto cioè non subire per disseguamente l'invenzione della Decne che ti viene affidata con il manuale di istruzioni e anche con il voto aspetta il voto lo diamo noi ecco questo intanto appunto Derek se vuoi tornare sulla questione e interagire con quello che hanno detto i nostri autori aggiungo un elemento una domanda alla questione non è che tutti i problemi che abbiamo sentito sul digitale sono naturalmente reali non è che pretendiamo anche tanto da noi stessi nel senso che il digitale è molto giovane intanto quando intendiamo digitale è sempre strano perché noi intendiamo il digitale ci viene in mente la rete ci viene in mente internet ma anche la nostra televisione è diventata digitale anche la radio è digitale tutto il nostro ambiente mediatico è diventato digitale quindi siamo un po' come il pesce nella bolla con l'acqua dentro insomma nuotiamo dentro questo ambiente e trovandoci ad operare forse abbiamo bisogno di più tempo abbiamo avuto molto tempo per adattarci agli altri ambienti il digitale è per noi un ambiente molto nuovo quindi non ritieni che abbiamo bisogno più tempo anche per affrontare la questione della governance globale poi di questi fenomeni perché sono così recenti e non abbiamo gli strumenti né politici né economici per evitare i monopoli che richiamavamo prima allora forse non chiediamo anche troppo da noi stessi cioè risolvere tutto subito per l'ansia di stare in un posto sicuro che probabilmente non ci sarà mai bella domanda bella domanda indeed la cosa che tu ti fai pensare evidentemente è la grande ansia di una parte importante del mondo che si chiama the deep state lo stato profondo sì questo evidentemente digitalmente funziona benissimo perché questo deep state come ho detto prima esiste già in Cina però noi ancora la Cina ha questa possibilità di farlo dal top down e legittimato legittimato dal parte del pubblico le varie inchieste che si fanno su come lo prendono loro loro dicono ma noi abbiamo la libertà di movimento almeno controllata ma libertà relativa abbiamo sicurezza possiamo tornare ricchi tutto va benissimo e noi siamo più o meno contenti di questa situazione per un occidentale no non va bene si deve fare a un modo ipocrito che si fa assolutamente voi che avete visto The Social Dilemma sapete esattamente il modo ipocrito di funzionare nell'Ovest per dire ma da dove viene questa questa resistenza individuale di ciascuno di noi che stiamo perdendo perché il problema è questo che più tu metti fuori della tua testa dentro qualche sistema il tuo telefonino meno tu guardi per avere un giudizio che puoi fare al momento giusto per votare o comprare questo è fondamentale ho apprezzato enormemente questo libro perché arrivano a conclusione vicinissime delle mie da una parte completamente diversa loro sono filosofici io sono antropologo più o meno e particolarmente sono macluaniano vuol dire antropologo in un modo un po' speciale perché macluan mi ha insegnato e questo serve a ciascuno un metodo semplicissimo come lui si occupava della tecnologia lui ha creato la famosa parola the medium is the message che vuol dire che il medio che usiamo è la vera novità che non conosciamo mai siamo sempre puntati sul contenuto ma infatti quello che porta al contenuto cambia la nostra realtà e questa è la problematica per quella ho fatto io questo studio neurologico su perché scriviamo verso la destra vi sparmio un'esercizione complessa ma eventualmente abbastanza vera sulla struttura del cervello rispondendo al fatto di sapere scrivere a destra o a sinistra e poi passiamo direttamente alla parte psicologica che è quando impariamo a scrivere e a leggere prendiamo una possessione individuale del linguaggio cosa che i cinesi possono fare anche ma in modo totalmente diverso e di nuovo vi risparmio allora individualmente noi abbiamo cominciato il passaggio del mondo descritto benissimo dal libro alla nostra situazione molto pericolosa e fragile adesso è precisamente il fatto che il superare della nostra libertà individuale data dalla scrittura dalla tecnologia digitale è in corso sì è giovane questa cultura digitale però io in 89 ho cominciato a scrivere uno dei primi libri sulla cultura digitale perché l'ho sentito venire Negro Ponte che è il gran capo e il grande guru della cosa ha messo cinque anni di più per scriverlo vuol dire che perché vi gli dico non per fare cocorico ma per dire che oggi che vedo che è già vecchio il digitale perché che viene indietro una cosa che fa salto piggyback sul digitale che si chiama la fisica quantica e noi siamo adesso esattamente al stesso livello di progresso e di maturazione della fisica quantica e delle sue tecnologie quantum computing gps fmri criptografia tutto questo è già è già la verifica tecnica e pratica delle applicazioni di una cosa che noi capiamo ancora che è veramente stupendo vuol dire che noi siamo allora che è il metodo di macluon il metodo di macluon è provi di trovare che è la base tecnologica che crea le figure che tu riconosci le figure di una cultura siamo noi ciascuno di noi è una figura di qualcosa di profondo che viene del terreno come le fiori crescono del terreno e poi queste figure rispondono ai principi allora il principio della cultura alfabetica semplice fare senso dare senso continua la natura della comunicazione propria tutti animali fanno senso a qualche modo che trovano fanno senso l'uomo tornate a Giambattista Vico per saperlo bene l'uomo crea senso a partire di gesti e di gridi eventualmente questi si mettono in corso per tornare il linguaggio questo linguaggio si scrive una volta che il linguaggio scritto esce della persona ma quando questo linguaggio è usato silenziosamente non è più comunicazione è solo l'internalizzazione di un contenuto linguistico molto complesso che contiene come oggi l'internet e il web contiene tutta la conoscenza del mondo a un modo meno grande meno diffuso l'alfabeto ha fatto la stessa cosa l'internalizzazione è la presa di possessione del linguaggio a uso personale e poi vi lascio le cose che voglio condividere con voi ma posso essere come l'attore greco ipocrito il nome dell'attore greco è ipocritos che vuol dire quello che giudice da sotto interessante iponemeta e ipocrito no? questa è la prima base la seconda base ne abbiamo parlato già evidentemente della trasformazione digitale fondata non più sulla condivisione del senso ma la produzione di conclusioni che non passano attraverso il senso ho tradotto il libro questo libro l'ho trovato talmente meraviglioso che l'ho tradotto usando di non google translate ma deeple.com e ho dovuto evidentemente rivedere la traduzione la cosa è straordinaria è che una traduzione automatica è fatta senza senso senza senso una traduzione questa è la natura dell'algoritmo l'algoritmo è capace di raccontare la tua vita senza senso allora questa è la seconda base l'algoritmo e la cultura digitale la trasformazione digitale è l'unico cambiamento su 2600 anni che è al stesso livello di forzatura per il cambiamento e le figure di questa cultura digitale sono evidentemente l'ordine sociale la ripresa di possessione dell'uomo vuol dire che la libertà che è stata completamente data dall'alfabeto si tira da noi e per questo che dico ai professori e insegnanti ragazzi siete sicuri di far leggere questi bambini su carta e non su schermo perché sul schermo tu metti la tua testa allora che davanti della cosa scritta a tua mano sei tu il dominio sei tu il proprietario di questo contenuto finisco sulla terza base perché parlare della fisica quantica e perché dire che è capace di cambiare la realtà di nuovo non perché ha già messo a posto una quantità di tecnologie e applicazioni utili ma perché perché precisamente è il sostegno di questa nuova forma di libertà che è l'incertezza uno dei grandi principi della fisica quantica è l'incertezza delle forme che prenderà e una delle cose interessanti si chiama il colasso dell'onda noi siamo onde quantiche ambulanti dice Alexander Wendt che ha fatto un libro meraviglioso sulla domanda siamo quando pensiamo ci sono nel nostro pensiero un sacco di di come dire di movimenti come il mare di onde e quando abbiamo deciso come parlo adesso di dire qualcosa queste onde torneranno particelle c'è un dubbio tra l'onda e la particella questo è uno dei principi secondo incrociamento incrociamento siamo tutti incrociati voi avete tutti sentito parlare del fatto che il nostro corpo è fatto di elementi delle stelle ok è molto poetico ma anche vero ma il problema dell'uomo occidentale che voi avete studiato io adoravo The Thinker il pensatore di Rodin che è un'immagine dell'uomo solo maschio vi manca una cosa quello che si vede dalle immagini di Da Vinci di Vitruvio che è guardare il mondo e tutta la risposta al visivo che è un allontamento della realtà invece l'incrociamento della fisica quantica è un collegamento di tutti e questo è fondamentale per ripensare il nostro rapporto alla natura siamo a rovinare la natura tutti tutti non voglio farvi sentire l'incolpa ma voi lo siete dal momento che comprate un altro vestito che andate e buttate un altro pezzo di plastico voi siete fare un peccato al modo cristianismo assolutamente vuol dire la problematica del futuro sarà come riprendere a partire da una vista completamente nuova della realtà il nostro rapporto con la natura quanti spunti sono logicamente incrociati sono logicamente incrociati ma sono tanti e quindi ne prendo uno tra i tanti possibili e che comunque riconnette secondo me in maniera utile per chi ci ascolta uno dei passaggi molto belli che hai fatto è la descrizione di come funziona l'algoritmo tendenzialmente un algoritmo quindi da qui abbiamo pensato pensiamo proviamo a fare un altro giro su questo introduco prima di appunto passare di nuovo la palla a Maura e Andrea a me viene in mente una cosa nel modo in cui tu da Enrico descrivevi l'algoritmo e c'è un elemento ovviamente tu dici di seduzione che è misto anche un elemento di possiamo dire di paura ma non nel senso e io mi sono domandato spesso da sociologo che cosa oggi spaventi tanto quando si parla e si pensi agli algoritmi e la cosa che oggi io mi rispondo è che ciò che ci spaventa molto è che l'algoritmo non è qualcosa che sta fuori di noi noi guardiamo all'algoritmo e ci spaventiamo perché è come quando ci guardiamo allo specchio l'algoritmo vive sulla base delle informazioni che ciascuno di noi dà all'algoritmo di sé allora quando l'algoritmo funziona in un modo che ci dà paura è come se ci guardassimo allo specchio al mattino e ci facessimo paura da soli cioè è l'impressione che fa il guardarsi nel profondo di sé l'algoritmo risponde a ciò che noi chiediamo io non vi dico niente di nuovo ma quando cercate qualcosa su google le risposte che google vi dà rispondono alle logiche con cui voi avete cercato il resto prima la stessa argomento cercato da me e da ciascuno di voi darà risultati totalmente diversi perché l'algoritmo funziona sulla base di ciò che io ho raccontato di me alla macchina al sistema di machine learning cioè all'algoritmo che impara costantemente dalle nostre ricerche che apprende sui nostri gusti sulle nostre preferenze sui nostri orientamenti e ci serve su un piatto d'argento ciò che stiamo cercando cioè ciò che ci dovrebbe piacere di più ora questo può essere inquietante sulla base di ciò e tutto ciò che è inquietante affascina e io mi ritrovavo molto nelle cose che diceva Derrick prima cioè ci spaventiamo di vedere noi stessi dentro a quella cosa e allora la domanda è appunto sulla questione dell'algoritmo e anche per tornare un po' alla questione che voi ponete nel libro per poi magari allargare ancora il discorso ma che cosa c'è di divino dentro questo cioè perché non è che ci fidiamo così tanto perché la parola fiducia è sempre una cosa che non abbiamo è lì e non abbiamo ancora richiamato ma la fiducia verso la macchina perché riponiamo fiducia quando facciamo le cose che Derrick dice cioè utilizziamo l'algoritmo per capire qual è la strada più breve per raggiungere una meta ci affidiamo cioè ci affidiamo e ci fidiamo cioè ci fidiamo di noi stessi attraverso quella ricerca matematica e allora perché ne abbiamo così paura Mauro e Andrea? Beh gli spunti sono veramente infiniti quindi non so neanche tra l'altro quanto tempo abbiamo più delle 18 quindi no perché ci sono veramente tantissime questioni per andare a questo e intanto mi viene in mente rispetto alla natura che leggevo qualche giorno fa che internet è il quarto paese più inquinante del mondo e mi viene in mente questo per me si collega anche all'idea che che non ci si rende cioè come dire questa sensazione di levigatezza che danno che danno i dispositivi perché anche lì ci sarebbe appunto poi ovviamente un discorso da fare sul nostro rapporto con i dispositivi è un filosofo bionchulant tra l'altro coreano naturalizzato tedesco e che quindi conosce bene anche appunto la visione della Corea del Sud del modo in cui si è digitale lui qualche settimana fa è stato nostro ospite alla Galleria Nazionale e parlava degli smartphone come degli infomat come se fossero degli bancomat di informazioni e di noi come infomani che in qualche modo siamo effettivamente drogati di informazioni la cosa curiosa e inquietante era che già in prima fila durante quell'incontro le stesse persone che stavano ascoltando lui che diceva questo cercavano sugli smartphone quelle definizioni le cose di cui lui parlava perché in qualche modo diventa un poi appunto un riflesso incondizionato diventa una reazione immediata ora c'è in generale come dire oggi non riusciamo a esaurire le questioni perché sono tantissime non siamo neanche ancora tornati alla questione delle libertà una questione potrebbe anche essere quella della differenza tra libertà e opzioni che forse sono appunto poi sono quelle che abbiamo più a disposizione sul digitale ma la cosa importante secondo me è proprio il fatto che noi vediamo in maniera molto superficiale il digitale appunto non vediamo dove sono i sassi non vediamo dove sono i server quindi ci sembra che sia green che sia sostenibile che sia meno impattante a livello ambientale di quanto non sia la carta non è esattamente così quindi è necessario un processo di pensiero è necessario mettere dei punti interrogativi eppure questo spesso non accade e questo secondo me va fatto anche rispetto agli algoritmi e ai dati ora io per formazione noi parlo poi personalmente sono stata molto sospettosa riguardo i dati per molto tempo cioè i dati anche tutta l'idea che in qualche modo gli esseri umani possano essere raccontabili descrivibili e risolti dissolti nell'insieme dei dati che producono è una cosa che istintivamente mi spaventa e non mi piace proprio perché fa parte ovviamente anche di una cultura del pensiero occidentale che invece ci dice che c'è qualcosa di ineffabile e allora i dati non possono in qualche modo raccogliere quell'ineffabilità il problema è che questa visione ci rischia di allontanare da una consapevolezza che quella che ha a che fare col capire cosa sono davvero i dati cioè non sapere che internet è un paese inquinante non sapere che un'altra cosa che a me come dire interroga molto di cui non si è parlato negli ultimi due anni perché si è parlato di altro ma di cui si dovrà parlare è la questione della sovranità monetaria quindi il fatto che una piattaforma privata possa produrre moneta perché sono tutte questioni che sono strettamente legate anche al potere degli stati nazionali rispetto alla questione tra la differenza tra il modo in cui noi intendiamo la libertà e il modo in cui le intendono la Cina la Corea ha a che fare anche con questioni geopolitiche cioè è tutto estremamente interrelato per questo non possiamo sciogliere le questioni ed è per questo che è importante vedere che ci sono delle stratificazioni e c'è una cartografia difficile da definire è facile descrivere la cartina di una città poi con Torino è particolarmente facile fai il disegno è tutto estremamente geometrico ordinato ma come facciamo a descrivere come è fatto il mondo digitale ci sono tante di quelle non sappiamo neanche mettere il confine tra pubblico e privato cos'è un contenuto pubblico e un contenuto privato dove finiscono sappiamo che ci sono chat di telegram di cui non sappiamo niente la polizia a spostare ci dice di non andarci perché rischiamo di peggiorare la situazione ci sono una serie di insidie che sono invisibili e quindi mentre nel mondo fisico noi sappiamo che ci sono dei luoghi in cui è meglio non andare dei luoghi in cui i nostri figli e le nostre figlie non li manderemmo nel mondo digitale invece sembra tutto più levigato ma è solo un'impressione perché poi è fatto di relazioni umane allora qui sta sta la questione che gli algoritmi fanno paura perché sembrano qualcosa che sta fuori di noi ma in realtà gli algoritmi sono elaborati dagli architetti delle informazioni il modo in cui si presenta la pagina di google non è una intelligenza divina come a volte abbiamo l'impressione che sia è un caso che si organizzino così se noi cerchiamo un nome e cognome e ci appare sulla pagina di google a destra la foto della persona con una piccola descrizione non è la pagina di wikipedia è un'organizzazione dei dati veloce sulla base di quelle informazioni lì e sulla base della popolarità di quella persona e questo non è fatto dagli algoritmi è fatto dalle persone che organizzano e architettano e strutturano gli algoritmi ed è fatto anche da noi dal modo in cui noi come dire in cui organizziamo le cose noi potremmo fare potremmo anche come dire cercare di di estendere il parallelismo tra divinità tra dei e algoritmi perché in effetti gli algoritmi sono qualcosa che noi preghiamo e a cui diamo delle offerte che sono i nostri dati che sono diversi dalle informazioni e anche qui a volte si fa confusione perché l'informazione è un processo è un processo a partire da dati grezzi ma sono due cose in realtà molto diverse e noi effettivamente li desideriamo e questo è anche il paradosso cioè noi abbiamo bisogno cerchiamo gli algoritmi li desideriamo diamo delle offerte come una volta si davano le offerte agli dei cerchiamo delle risposte dagli algoritmi ma allo stesso tempo ne siamo spaventati e ne siamo spaventati perché hanno potere perché sappiamo che l'algoritmo ha potere di non farci vedere delle cose e perché sappiamo che c'è qualcuno ci sono delle persone che hanno il potere di organizzarli che noi non abbiamo ora riguardo alle persone se noi crediamo che abbiano quel potere che noi non l'abbiamo e questo come dire anche un'altra lunga questione che la filosofia affronta da molti decenni ormai è ovvio che non l'avremo mai cioè se noi ci convinciamo che sia solo Zuckerberg che può decidere quale sarà il futuro del mondo digitale questo è una giustificazione ed è anche una profezia che si autoavvera d'altra parte è molto difficile dato che è così imprendibile dato che è così intangibile l'algoritmo ci fa paura perché ci sembra un potere che ci etero dirige che è esterno da noi però allo stesso tempo ci serve qui la questione è anche se davvero appunto quelle che noi abbiamo stiamo avendo dal digitale siano libertà o se non siano opzioni o se non siano comodità perché in realtà il digitale è comodo tantissime cose tantissimi processi che noi facciamo molto più velocemente nel digitale hanno come una delle caratteristiche principali è proprio quella della comodità sono comodi sono veloci ci fanno risparmiare tempo ci fanno risparmiare a volte soldi talvolta soldi ci fanno risparmiare relazioni con le persone che vorremmo evitare e quindi evitiamo di andare a parlare con le persone perché poi il digitale è anche check out che è molto richiesto di questi tempi il check in e check out degli airbnb senza contatto con le persone così evito di fare chiacchiere con delle persone con cui non voglio parlare dammi la casa lasciami tutto smart in modo che io possa rimanere con me possa decidere non debba avere a che fare con te quindi è anche un processo di comodità che poi è un processo di algofobia come lo chiama sempre Bionchulant cioè il tentativo di evitare la fatica la scomodità e il dolore e quindi poi alla fine le questioni che ci troviamo ad affrontare oggi sono questioni tecnologiche ma sono in gran parte questioni umane quindi sì diciamo che poi mi sembra che la conclusione che non ci può essere oggi perché in realtà mi sono venute in mente un sacco di altre domande che nel libro non affrontiamo e che sono veramente domande su cui riflettere però in qualche modo mi sembra che siamo abbastanza d'accordo sul fatto che che alla fine sì prima di tutto è una questione sociale è una questione a che fare con noi con il rapporto con noi con la nostra identità personale e con la nostra difficoltà che è una delle difficoltà principali che la filosofia ha messo in evidenza di entrare in relazione con le altre persone Socrate viene ucciso per questo quindi Socrate oggi sarebbe un un disturbatore incredibile del mondo digitale verrebbe espulso da qualsiasi gruppo qualsiasi gruppo facebook qualsiasi canale di telegram e Socrate viene espulso da una camera dell'eco viene espulso da una polis che era un sistema chiuso basato su un ethos che non poteva essere messo in dubbio lui introduce nuovi dei disturba i giovani li corrompe deve essere ucciso poi se ne pentono subito dopo però intanto lo fanno e allora forse quello che nel mondo digitale si manifesta ma è molto più insidioso proprio per questa sua intangibilità è questa difficoltà della condizione umana forse si ritorna a questo è la ragione per cui poi nel libro noi parliamo molto in punti diversi di un libro fondamentale che è vita attiva di Ann Arendt che è la condizione umana ci troviamo di fronte a questa grande difficoltà che ha a che fare con noi come io ma soprattutto con noi nel momento in cui incontriamo il tu benissimo Andrea per stare su questo punto cioè per provare a fare un passo avanti per il tempo che ci resta rimane forse in sospeso una questione legata a quello che diceva anche Maura e che richiamavamo all'inizio tutti insieme anche grazie alle ultime riflessioni di Derek e cioè ciò di cui stiamo parlando ha un impatto oltre che sul sistema di relazioni sulla nostra socialità ha un impatto su come si struttura il discorso pubblico questo è un altro grande un altro grande tema che vale la pena che richiamiamo almeno per il tempo che ci resta noi sociologi per esempio appunto qui è bello perché siamo tutti in qualche modo con discipline differenti ma cugine quindi vediamo le stesse cose da prospettive diverse noi parliamo non di un tema come dire non di un tema di limitazione o di restrizione del digitale di spazi di discorso pubblico noi ragioniamo sulla polverizzazione di questo allora nel libro voi fate un ragionamento mi sembra di capire che c'è nelle parti che sono riuscito a vedere invece un ragionamento quello che voi dite sulla progressiva restrizione del perimetro del ragionamento e dello spazio pubblico proprio nel modo di organizzare il discorso allora mi piacerebbe sentire la tua insomma credo che potremmo condividere anche con le persone che sono con noi cioè come vedi la questione della riorganizzazione dello spazio di discussione pubblica che è poi ciò da cui siamo partiti cioè la relazione tra il nostro tema e la democrazia perché poi alla fine è lì che si arriva sì allora intanto io faccio fatica a teorizzare perché passerò probabilmente il Natale un Natale molto felice all'idea che Decker Kove ha tradotto il nostro libro per diletto personale quindi io mi bullerò di questa cosa a casa se questo ci ha lasciati tutti basiti in prima ve lo diciamo perché siamo rimasti tutti di pietra ma e quindi sarò lì ogni tanto quando sarò triste nei momenti bui pioggia milanese dirò ma però però ricorda di che e quindi esatto e vabbè a parte questo qui grazie ancora rinnovo il ringraziamento per e tra l'altro una cosa bellissima che ci ha detto prima posso dire il verde e il blu sì ha detto che alcune parti le ha tradotte e sono in verde quando è molto d'accordo e in blu perché ci vuole ritornare su cui vuole ritornare e in blu quando invece è in disaccordo io gli ho detto ma è tutto blu il libro e ho detto no non è tutto blu però ovviamente tre quarti ha detto poco ha detto poco ha detto poco che poi se no mi rovino il ricordo allora leggevo recentemente che degli ospedali di Cincinnati e di Houston hanno rilevato un dato molto strano e cioè hanno rilevato un incremento dei casi di sindrome di Tourette perché? perché contestualmente hanno scoperto che quella fascia di ragazzi e ragazze molto giovani che facevano un grande uso di TikTok erano stati sovraesposti a una serie di TikTok che levavano lo stigma alla sindrome di Tourette questa roba è un farmacon purissimo perché cos'è che succede? ragazzi con sindrome di Tourette raccontano di avere la sindrome di Tourette e la mostrano in questo c'è del buono perché si toglie lo stigma su qualcosa che la società considera come dire da tenere nascosto però contemporaneamente la visione di questo di questo trend ha portato poi alcuni ragazzi e ragazze già fragili a sviluppare dei tic nervosi e questa roba qua è interessante perché se da una parte noi sappiamo che dobbiamo togliere alcuni stigma dal mondo dobbiamo imparare a diciamo così a riordinare la formula del mondo dall'altra il principio stesso del farmacone è che la coperta è la coperta e se tu la tiri da una parte scopri un'altra parte cioè ogni società dosa la democrazia è una certa formula avete presente quegli organi nei quali tu devi spingere o tirare i fiati affinché appunto producano dei suoni differenti ogni società produce una formula che garantisce la vita collettiva chi fuoriesce da quella formula riceve lo stigma sociale e gli parte la colonna sonora come in questi casi gli succede tu è stato così e lo stigma appunto ma guarda quello lì che è al circolo del lettore ha lasciato la suoneria accesa ai 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 capito e parte lo stigma magari in un'altra società sarebbe stato apprezzato perché dice no ma è bello mettere un sottofondo musicale beh il fatto qual è è che nel momento in cui si produce un'infrazione della regola ciò che accade è che la società si ribella e ti dice no fermo tu non devi oltrepassare questo limite noi abbiamo generato una serie di limiti di confini che in un certo senso garantiscono lo stato dell'attuale democrazia il problema è che la democrazia è già saltata cioè già è è decisamente fallata oggi abbiamo il dovere di cercare di ripararla ma è rotta c'è un bel libro che si chiama The Reality is Broken perché la realtà è rotta scrive un'esperta di giochi e dice il gioco è molto più affascinante per i ragazzi e le ragazze perché gli dà un senso che manca nella realtà la realtà non è in grado di dare loro e allora questa storia di TikTok cos'è che ci dice? ci dice che noi stiamo cercando di costruire un nuovo mondo ma le nostre mosse possono salvarci e contemporaneamente distruggerci quello che stiamo facendo con i nostri sistemi di diciamo così di relazione umana è stregoneria se la vogliamo leggere male ma di sicuro è un'enorme presa di responsabilità che va fatta con lucidità perché altrimenti affondiamo altrimenti pensiamo che basta cambiare delle cose nella nostra società per stare meglio ma ogni esperimento è un rischio e questo è il grande il grande punto doloroso terribile per certi versi noi abitiamo quelle che possiamo definire delle metanazioni digitali siamo sudditi noi siamo contemporaneamente cittadini italiani e contemporaneamente sudditi di Facebook di Amazon e via dicendo accorgersene è importante perché ti permette di capire che cos'è la merce di tutto questo prima Derek faceva riferimento al social dilemma beh lì appare evidente è molto chiaro rimando a Shoshana Zuboff al capitalismo della sorveglianza per esempio per mettere in luce il fatto che è l'attenzione che è una forma d'amore che noi devastiamo che noi sprechiamo all'interno dei social media è la vera moneta affinché sia possibile che cosa diventare la merce se il prodotto è gratuito la merce di tu sì ma non solo quello è l'inizio del discorso la prosecuzione del discorso è la manipolazione è la sperimentazione quello che ha fatto facebook nel 2012 quando ha fatto l'esperimento del contagio emotivo ha somministrato da voce di Dio in un certo senso post positivi a centinaia di migliaia di persone inconsapevoli di far parte di un esperimento e post negativi a un'altra parte di persone e ha mostrato che i loro atteggiamenti il loro stato d'animo mutava e producevano anche contenuti diversi in linea con quelli che venivano somministrati loro noi vi abitiamo un grandissimo esperimento ed è fantastico è terribile ma è anche fantastico abbiamo la possibilità di orientarci all'interno di qualcosa che i grandi dittatori della storia hanno sempre sognato ma non sono mai riusciti ad essere così pervasivi come diceva Pasolini il consumismo è riuscito lì dove il fascismo non era arrivato a toccare il cuore delle persone a conoscerlo e a orientarlo non è di facciata non è solo questione di comportamenti è questione di sentimenti di emozioni di stati d'animo di ciò che viviamo profondamente e allora il passaggio è cruciale adesso per chiudere e magari fare un altro giro ma non penso che ci riusciremo magari devi fare una domanda allora chiudo nice in ecceomo dice non fidarsi di quei pensieri che non sono una festa anche per i muscoli non fidarsi di quei pensieri che non sono nati all'aria aperta è il corpo che fa la differenza è la capacità che avremo di tornare al corpo anche se tutti ci spingeranno come il metaverso a sviluppare la presenza a distanza che è un paradosso cioè a vivere meno la nostra corporità e allora è bene traslare questa immagine di nice in un'altra che è non fidarsi di quei paradisi che non sono una festa anche per la terra fare in modo che queste centrali che divorano l'energia fisica mentale ma anche terrestre non diventino dei paradisi in cui noi siamo specializzati a inventare paradisi per scappare dalla prigione terrestre come dice Arendt in vita attiva e invece diventino qualcos'altro diventino degli strumenti per riempire di senso la terra e non per svuotarla sì una cosa che volevo chiedere non so appunto penso che siamo forse alla conclusione è la domanda che vi ho fatto prima cioè forse pretendiamo troppo da noi stessi io volevo sapere qual era l'opinione perché in effetti abbiamo criticato molto tutto questo sistema abbiamo spinto sollecitato a una riflessione forse il rischio è che poi ci si irrigidisca ci si senta fin troppo responsabili della salute del discorso pubblico della salute del mondo digitale che quindi non si riesca più ad agire quindi volevo sapere un po' qual è la tua risposta a questa domanda che hai fatto ma in una battuta prima di chiudere io credo veramente che noi pretendiamo troppo da noi stessi temo che gran parte delle responsabilità che ci attribuiamo non ci spettino in nessun modo penso che quando ragioniamo su queste cose il tema della paura dell'incertezza che bene richiamava prima Derrick è fondamentale cioè che noi si impari in qualche modo ad assumere che c'è un'incertezza e che quell'incertezza può essere al massimo governata e invece trovare sempre la paura dell'algoritmo in qualche modo è risolutiva per noi cioè se temi qualcosa sei a posto con la coscienza se pensi che ci sia un problema da risolvere benissimo perché tanto c'è qualcuno dal quale guardarsi perché magari ti manipolerà e se tu sarai un pessimo cittadino è colpa un pessimo elettore è colpa non tua che non sei sempre più stupido ma di una macchina che ti induce a fare cose che non vuoi cioè io sono molto preoccupato di alcuni ragionamenti intorno agli algoritmi e al digitale perché tendono a proiettare le responsabilità individuali fuori e ad assumere soltanto quelle in qualche modo leggere e io penso quando penso agli algoritmi io ho visto inaugurare qui all'università di Torino una macchina di intelligenza artificiale straordinaria che serve a in qualche modo a pre costituire e a prevedere per meglio dire i tumori prima che insorgano anche quello è un algoritmo cioè ciò che consente e già consente a un macchinario straordinario che ho visto all'opera e cioè di capire se su una base di indicatori c'è una probabilità che si svilupperà un tumore in una persona con quel tipo di malattia pregressa ho visto ho visto macchine meravigliose generate e funzionare sulla base di algoritmi che consentono agli studenti di medicina di operare su qualcosa che non è un corpo umano e di imparare ad essere grandi chirurghi senza la necessità di toccare il corpo di una persona cioè ho visto applicazioni nel campo della virologia nella previsione della possibilità di diffusione di virus e contagi all'interno di istituzioni sanitarie che ci consentiranno di vivere in futuro ma già adesso in realtà una vita migliore e di sviluppare il nostro benessere e per rispondere alla domanda io ho l'impressione che tutto questo livello di incertezza e di paura che si sviluppa anche a cose terribili come The Social Dilemma che è un'opera che in un modo di vedere è fortemente ideologica e fortemente come dire paracula tecnicamente non sono filoso ma fortemente è fatta su quella ecco alla fine possano indurre in ciascuno di noi un rapporto non obiettivo con quello che è il nostro ambiente che come dicevo all'inizio dà una grandissima attenzione a qualcosa che non immaginiamo ma anche grandissime risorse grandissime opportunità e io spero che i giovani quando vedano queste cose ne abbiano non paura ma curiosità perché devono controllarle e non esserne controllati riguardo a The Medium is the Message la domanda che mi nasceva riascoltando sono cambiati i ruoli mi sembra bellissimo guarda non so come ringraziarti lo farò per Derrick intanto mi interessa questa cosa perché io sono nel senso come dire noi poi sentiamo costantemente questa abitarci in qualche modo abitiamo posizioni differenti e questa secondo me è la cosa interessante ma ripensando a quella frase la domanda è qual è questo il medium cioè che cos'è il digitale cosa può diventare mi hanno spento il microfono no no credo che siano solo le batterie chiediamo a Derrick di chiudere su questo magari cioè se ci aiuta a capire questo sì nel senso che forse con la scrittura con la scrittura su carta con una serie di altri medium noi possiamo capire come dire sono più simili al nostro modo di ragionare analogico e possiamo capire quindi che cos'è il medium e che cos'è il messaggio nel digitale forse ancora non lo sappiamo perché ancora lo stiamo facendo e quindi probabilmente la difficoltà sta anche in questo non riusciamo a capire qual è il messaggio perché in realtà non sappiamo ancora che cosa sia ma il medium fondamentale il digitale è che 0-1 è il più piccolo infatti 0-1 è solo un segno è on o off è questo 0-1 è il più piccolo denominatore comune di tutta l'esperienza umana traduce tutto e questo è una cosa e questo il medium fondamentalmente è lì i messaggi sono come può prendere le forme di tutti gli altri media cinema televisione scrittura corpo materadura tutto questo e questo è un po' il medium io volevo se si tratta di concludere portare un'attenzione su un contenuto del libro che è molto toccante che è un sorta di lamento il lamento di che cosa stiamo perdendo ci tornate abbastanza su questa domanda è sempre un modo molto poetico ma anche come ho detto toccante che vogliamo mantenere nella nostra cultura alfabetica che vogliamo portare avanti raccontare bene la storia che abbiamo perso e questo già tutta la storia del fuoco e della preghiera è un meraviglioso momento io direi questa è una domanda a farsi sempre anche come insegnanti che vogliamo portare con noi che vogliamo portare di questa prossima evoluzione tecnologica che stiamo a aspettare di questa prossima